Longin, collezione 1832, un capolavoro di eleganza e stile La collezione Longin 1832 è stata lanciata nel 2018 per celebrare l'anniversario della creazione dell'azienda Longin. L'orologio da polso 1832 è una testimonianza di tradizione orologera raffinata, unendo con bravura l'eleganza senza tempo e il prestigio e tradizione dell'arte orologera. Dalla sua introduzione, il 1832 ha incarnato la perfezione artigianale e la dedizione all'alta qualità. La sua storia rappresenta una testimonianza dell'eredità secolare della Maison e dell'impegno costante per l'eccellenza. Il design riflette un connubio armonioso tra raffinatezza e funzionalità. La cassa, lavorata con cura artigianale, si adatta al polso con eleganza e comfort. Il quadrante, arricchito da Imjic, esprime un'estetica leggibile e raffinata. Le lancette, dal design armonioso, si muovono con l'accuratezza di un movimento svizzero di alta qualità. Molte celebrità di fama internazionale, da attori al leader d'opinione, hanno scelto il 1832 per la sua capacità di coniugare l'eleganza senza tempo con il prestigio dell'arte orologera svizzera. Indossare un 1832 significa rendere omaggio alla tradizione orologera e al lusso intramontabile. Oltre al suo design raffinato, il 1832 si distingue per l'attenzione all'innovazione e all'alta qualità. Movimenti di precisione, materiali selezionati con cura e funzioni sofisticate si fondono per creare un orologio che supera le aspettative. Un orologio che ha dimostrato di saper stabilire record di precisione e affidabilità, mantenendo intatta la sua eredità di eccellenza. In sintesi, il 1832 incarna una fusione unica di prestigio e stile senza compromessi. La sua storia di tradizione, il design distintivo e l'attenzione all'innovazione lo rendono una pietra miliare nell'universo dell'orologeria di lusso. Scegliere un orologio Longin 1832 è un omaggio all'arte orologera svizzera e una celebrazione dell'eleganza senza tempo. Con la sua storia affascinante, il design sofisticato e l'impegno verso la perfezione, il 1832 continua a brillare come un'icona di stile e prestigio. Optare per un Longines 1832 è abbracciare la bellezza intramontabile e l'artigianato d'eccellenza.